buonasera ragazzi buonasera buonasera come già potete ci possiamo ricordare il 9 luglio 2006 12 anni sono passati ragazzi ma prima ma prima parliamo del titolo parliamo del titolo dell'altra cagata che uscite siccome parla di cagate fa tante visualizzazioni parliamo di cagate no chi se ne fotte no ronald all'inter e vabbè bisogna far notizie poi non è uscito tanta sta cosa si parla della figlia di jacobelli che ha detto però non se ne è parlato molto scambio con i card si mica fantascienza proprio ma neanche a pesta c'è a fare sti o a fifa c'è a fare sti comunque ormai è tutto in fase di stallo rosica rosica mi diverto divertitemi cazzo da rosica non me ne fotte a me non sto dicendo che dovesse arrivare un'altra da juve cosa è una sicura che se ne vada tanto ormai la direzione è quella ormai la juve sta così cosa si può dire diventerà sempre più finché vincerà scudetti sarà sempre più forte più forte più forte finché non crolla io dico sai finché non crolla e non c'è qualcun altro che riesce a vincerlo scudetto sarà sempre sempre più forte quindi c'è poco da fare quindi chiunque arrivi ormai così si sa comunque oh e di là di quello iscrivetevi a sto cazzo di canale dai oh 1940 quanto ci siamo ancora 60 iscritti e mancano meno di 7 giorni voglio arrivare entro 15 luglio entro il compleanno fatemi sto regalo dai su 2.000 a 2.000 tondi così almeno festeggiamo insieme ci sarà la finale mondiale sarà un giorno molto importante 15 luglio domenica domenica questa che viene e poi concluderemo la stagione perché è iniziata la stagione dell'inter ma per me la stagione inizia dal 16 luglio in poi per così dire quindi mondiale ancora in corso ditemi vorrei sapere da voi vediamo se siete arrivati al video fin qua vuol dire che siete fantastici allora dei sondaggi dei sondaggi vorrei sapere il 9 luglio 2006 dove eravate e con chi avete visto la finale visto che tanti non è che non è che tanti mi hanno detto perché io ho fatto ragazzi andate a vedere il gameplay del mese scorso ho fatto il gameplay con mondiale fifa 2006 e con la partition 2 andatevelo a vedere e quindi ditemi con chi eravate quella sera lì che avete festeggiato cosa avete fatto cosa vi ricordate insomma qualunque cosa volete e poi dovrete dirmi e farmi un pronostico di chi arriverà in finale secondo voi quest'anno il 15 di luglio quindi sarà francia inghilterra sarà belgio inghilterra sarà belgio croazia sarà francia croazia ditemelo voi ditemi chi tifferete e basta nient'altro scrivetevi al canale iscrivetevi iscrivetevi dai manca poco manca poco grazie a tutti